attenzione allora tutto pronto per la partenza per i 20 giri del gran premio delle americhe lì dalla sinistra la pole position di Maverick Vignales accanto a lui a Costa poi Marquez dopo il semaforo scatenato all'inferno prima dentro gas a martello e andiamo è partito a bomba Pedro a Costa a bomba un missile attenzione a Marquez che viene infilato tra Vignales e Jorge Martin direi tra Vignales e Jorge Martin con Vignales che prende un rimbalzone micidiale e finisce tante 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 posizioni indietro davvero non ci voleva mentre vanno nelle serpentone curva 4 5 6 7 con a Costa in testa alla gara seguito da Enea Bastianini da Jorge Martin da Jack Miller da Marquez da Vignales in sesta posizione ha fatto una buonissima partenza anche Rins attenzione Tolkien Elmerci che mangio per cena qui è tosta mangiare per cena perché è una settimana che vado avanti a pollo che non sa di vollo in un'altra galassia c'è il promotore di uno sport che non vede l'ora che qualcuno ne parli di quello sport e quindi non è un problema se uno usa le immagini del loro sport per analizzarle o anche per una risata come in questo caso perché alla fine è tutta pubblicità gratis lo so lo so sembra follia pura vero Dorna? ah per gli incalliti non è che ho paragonato Tomac ad Acosta né tantomeno Barsha a Marquez erano solo immagini che si prestavano alla telecronaca poi sì chiaro che amo Tomac a quanto amo Pedro e ho anche un debole per il completo da Almata ma questi sono altri discorsi parlando di MotoGP che ne dite di partire con un tutorial? perché magari vi prende voglia di guardare la MotoGP in chiaro sulla RSI la tv in italiano sulle reti svizzere solo che dall'Italia non funziona perché dovete essere in Svizzera voi che fate? andate in Svizzera a guardarla? no aprite NordVPN lo sponsor di questo video tra gli oltre 100 paesi al mondo disponibili selezionate la Svizzera perché vi serve quella in questo caso una volta connessi ad un server svizzero aggiornate la pagina o se il browser fa storie aprite una pagina nuova e come per magia la MotoGP in chiaro è servita le immagini non ve le faccio vedere perché non è super cross purtroppo nonostante quella manovra d'emergenza oh NordVPN è la VPN più veloce sul mercato che per la stragrande maggioranza di noi in soldoni significa che gli streaming vanno uno spettacolo e non ci accorgiamo neanche di averlo acceso cliccando il mio link che trovate sotto al video norvpn.com slash talking helmet riceverete uno sconto esclusivo sui piani biennali di Norvpn più 4 mesi gratis e se cambiate idea entro 30 giorni glielo dite, vi rimborsano e finisce lì cliccate, provatelo, grazie Nord ragazzi Austin è stato uno di quei weekend dove Moto2 e Moto3 che me ne fotte a me e quindi andiamo subito al sodo e cioè Vignales o Gorilla o Top Gun o Batman o Rocket insomma Maverick no? io sono d'accordo con lui e con tanti altri quando dicono che questa è stata la vittoria più bella e importante della sua carriera e come opinione regge anche togliendo di mezzo i romanticismi quindi togliete il fatto che non vinceva dal 1954 togliete che è stata la prima vittoria da quando c'è stato il disastro con Yamaha togliete il fatto che è stata la sua prima vittoria con Aprilia togliete il riscatto da un periodo difficile togliete anche il valore dell'essere il primo nell'era MotoGP a vincere con tre moto diverse e tenete solo il lato sportivo ha fatto un garone un garone che li ha presi a schiaffi tutti in un weekend dove a parte la macchia della partenza cannata la domenica è stato perfetto Paul, Garetta e Garona che poi io sabato notte puntualmente dopo la garetta avevo detto che ormai le partenze per Maverick non sono più un problema da diverso tempo e puntualmente lui la domenica la cannata è giù che le dichiarazioni sui famosi problemi di frizione ritornano però la situazione generale non cambia confermo quello che ho detto sabato scorso e cioè che i problemi di partens in grossa parte si possono considerare risolti poi se Maverick ci delizierà con delle eccezioni qua e là le accetteremo volentieri ovviamente io adesso non voglio fare sempre quello che rompe le scatole però sorry la vittoria di Maverick va spulciata vi ricordate la sua adesso terz'ultima vittoria a Misano qualche anno fa? nel video dell'epoca personalmente avevo detto che è come se avesse fatto shush allo specchio perché io non ho mai sentito nessuno essere in dubbio sul talento di Vignales cioè ragazzi i dubbi su Maverick hanno sempre riguardato la costanza nel mantenere certi livelli non il fatto che lui abbia il manico o no per raggiungerli quello non è mai stato in dubbio e quindi non zittisci quelle critiche con una vittoria o una gara tipo fiammata solitaria le zittisci con una serie di risultati serie di risultati che poi quell'anno non arrivarono l'anno dopo vinse la prima in Qatar e nel video logicamente la domanda da un milione di dollari Maverick sbloccato o il solito terno all'otto otto gare dopo arrivò la risposta in Austria a suon dislimitate sono passati tre anni esatti dalla sua penultima vittoria a domenica scorsa tutto bellissimo tutto romantico però a questo punto servono che ne so altri cinque weekend così per decretare la rinascita di Top Gun volevo dire Rocket Batman la rinascita di Batman che poi questa di soprannomi nasconde l'altro suo lato no? perché Maverick storicamente è un po' volubile come personaggio incline a mutare con facilità e frequenza instabile, variabile, incerto che poi è anche uno dei tratti che rende Maverick Maverick, no? lo amiamo anche per questo e quindi cento soprannomi e quindi un giorno si sveglia nel 2019 e cambia numero perché non si sa bene perché e quindi un giorno è il Gorilla perché serve la forza del Gorilla un giorno è Batman perché serve l'agilità di Batman parole sue, non mie insomma facciamo il tifo per lui le interviste post gara soprattutto quelle di Sky sono state bellissime perché si è proprio lasciato andare ed era contento come una Pasqua tutto magnifico ma ne mancano almeno altri 4 o 5 di weekend così che ovviamente non significa 4 doppiette di fila significa almeno altri 4 weekend consistenti dove andrà forte dove farà bene e dove magari riuscirà a vincere di nuovo perché purtroppo Maverick che va forte quando va tutto bene non fa notizia notizia la farebbe Maverick che va forte nonostante le difficoltà quindi siamo a 2 perché è andato fortissimo anche a Portimau 4 o 5 to go prossimo argomento è Marquez Senior c'è roba interessante c'è un mix di discorsi da fare il primo è sicuramente la caduta causata da un problema al freno anteriore o quantomeno innescata da un problema al freno anteriore lui di prassi ed è l'unico o uno dei pochissimi a farlo questo gli va riconosciuto dice che qualsiasi cosa succede quando c'è una caduta alla fine la colpa è sempre del pilota alla fine quando un pilota cade l'errore finale è del pilota qui è dove sarebbe bello potervi far vedere le immagini in movimento ma dobbiamo accontentarci degli screenshots sia lui che Pedro ancora a gas spalancato vedete che le forcelle sono tutte estese Marquez davanti va a frenare per primo ovviamente ma la moto si schiaccia poco o niente significa che si è ritrovato con pochissima pressione sulla leva e che quindi lui si sta frenando tirando la leva ma la moto non sta rallentando granché e l'ha spiegata in una maniera che fa morire da ridere ma quando è arrivato in quella staccata la prima volta che ho preso il freno non c'era nessuno là è dovuto farlo in due volte nel frattempo anche Pedro si attacca ai freni così vi dà l'idea di quanto si schiaccia una moto quando frenano e nel frattempo del frattempo Marquez riesce a mollare la leva e a riprenderla e inizia finalmente con metri e metri di ritardo a rallentare come dovrebbe l'errore suo secondo me è stato quello di volercela far stare per forza invece di andare lungo perdere un po' di tempo e rientrare comunque a prescindere da questo e sono sobrio Maverick secondo me avrebbe vinto lo stesso sì l'ho detto perché ne aveva troppo di più di tutti e mancavano troppi giri alla faccia di Phillip Island 2019 quando Maverick era davanti e appena ha visto l'ombra di Marquez dietro si è steso al penultimo giro sarebbe stata la rivincita perfetta per Maverick contro Marquez di quella volta comunque per chiudere sull'alieno promosso o bocciato per adesso secondo voi io direi un filo sotto le aspettative non di troppo perché sta arrivando e arriverà non ci sono dubbi però mi aspettavo un livello di base un pochino più solido ah fermi oh parlando della caduta di Marquez e Francesco dopo Portimao avevo chiamato otto volte campione del mondo uno e due volte campione del mondo l'altro e ne ho fatti incazzare qualche centinaio si salvi chi può i commenti i commenti oh ma che dici e perché uno conti mondiali delle classi minori l'altro no e avete stufato con questo Marquez e porta rispetto come ti permetti Francesco ne ha tre di mondiali se l'altro ne ha otto e qui è là un casino ragazzi damosi tutti quanti una calmata anche perché la spiegazione è abbastanza semplice Marquez è un otto volte campione del mondo da che ne so sei anni sono quasi sei anni che diciamo Marquez otto volte campione del mondo mentre Francesco è un tre volte campione del mondo da sei mesi e quindi è una questione di abitudine non serve fare drammi vabbè commentiamo la situazione di Francesco piuttosto e dico che come al solito è presto e non c'è una singola ragione per andare nel panico hanno un metodo di lavoro assodato lui e la sua squadra che ancora una volta useranno per tirarsi fuori da questa situazione un po' moscia e non c'è molto altro l'unica cosa diversa dal solito e quella sì che può essere un campanello d'allarme da prendere sul serio per Francesco è Martin perché è un Martin diverso è un Martin nuovo è un Martin che sta cercando di passare sotto traccia fa ridere perché a tratti sembra avere l'aria di uno che passava lì per caso e lo dico in senso buono sembra tranquillo sicurissimo di sé addirittura più del solito se mai fosse possibile e che sembra voler fare anche poche chiacchiere fino qui ha lavorato sodissimo ha fatto i compiti e ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere quindi per il momento fa abbastanza paura adesso facciamo una cronistoria Austin Texas alle 14.02.39 si spengono i semafori circa 13 minuti dopo alle 14.15.34 Giovanni Zarco decide di rientrare ai box e ritirarsi perché qualcosa si è inceppato al posteriore e non ha potuto proseguire c'erano un sacco di vibrazioni due minuti dopo alle 14.17 il suo compagno di squadra il prigioniero HRC Takahaki Nakagami si stende passano due minuti e mezzo e alle 14.20 e due secondi Joan Mir Olso la butta per terra l'unica onda in pista rimane quella di Luca Marini passano altri due minuti e a distanza di 45 secondi l'uno dall'altro i fratelli Marquez si stendono un minuto dopo alle 14.25 e 24 secondi ora locale Alex Rins si stende attenzione perché la cronistoria si fa interessante la caduta di Alex Rins avrebbe potuto regalare a Marini il suo primo punto in classifica a tavolino perché erano finite le moto e quindi l'ultima posizione sarebbe stata la sedicesima che gli sarebbe valsa un punto se non fosse che uno dei due fratelli di prima Alex dopo la caduta si era rialzato ed era ripartito e a quattro giri dalla fine ha strappato l'ultimo punto disponibile dalle mani di Marini e ragazzi a parte le risate la situazione Honda è una roba mai vista la situazione in gara l'abbiamo appena descritta e in prova la stessa storia in qualifica erano quarto ultimo terzo ultimo penultimo e ultimo non hanno niente al momento sono praticamente quattro moto che portano a spasso gli adesivi e adesso Pedro ragazzi parlare di Pedro in questo periodo può essere sia molto facile che molto difficile dipende perché è vero che da una parte ti regala mille spunti ma dall'altra quasi ti annienta totalmente il cervello perché va talmente forte che non fa in tempo neanche a realizzare quello che è successo che lui già ha fatto un altro passo in avanti che già ne ha fatta un'altra aggiungete che poi ogni cosa che fa per adesso è la prima volta che Pedro fa X e quindi è proprio una mitraglia continua detto questo però va bene che Pedro va fortissimo va bene che è costantemente la prima KTM va bene che ha fatto due poli e va bene che siamo tutti contenti e va bene che cantiamo Pedro 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 Pe però come sempre e anche quando si parla di lui devono per forza essere i dettagli a fare la differenza e quindi magari solleverò una polemica ma è necessaria dice Pedro 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 Pe quattro volte solo nel primo ritornello solo nel primo poi da lì in avanti la prima frase del ritornello diventa sempre Pedro 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 Pe cinque volte mentre la terza rimane di quattro e in mezzo ovviamente i vari travolta di passione a Santa Fe tornerò da te bellissima avventura di Santa Fe soli io e te e così via oh ma sarà mai possibile torniamo alle gare domenica è partito e si è messo davanti grazie anche alla partens atomica di Maverick ovviamente e in quel momento via che ci ha fregato tutti un'altra volta Pedro perché perché io come tutti gli appassionati che qualche gara l'hanno vista con Pedro davanti la prima cosa che abbiamo pensato è stata e qui se uno è sincero dirà la stessa cosa abbiamo pensato che adesso lui è talmente gasato di essere davanti per la prima volta che tutti i calcoli tutta la gestione gomme tutta la papapà andranno a farsi benedire un'altra volta e quindi sì spettacolare vederlo davanti ma è una roba a scadenza questo abbiamo pensato e invece stocca ha fatto secondo dietro solo a Maverick che era in una sorta di stato di grazia era intoccabile Marcus è caduto va bene ma vi assicuro che anche da tifoso sfegatato che vede tutto attraverso le lenti color rosso gas gas quello che Pedro sta facendo non ha senso perché va oltre aveva la gomma media va bene ma andava forte all'inizio quando in teoria sarebbe dovuto andare più piano e in questa MotoGP non si sorpassa lui arriva e sorpassa dieci volte ah però ha finito le gomme Pedro ah sì va bene la settimana dopo arriva supera dieci volte lo stesso però senza finire le gomme cioè fa paura ragazzi e sta già facendo quello che faceva in Moto3 e che ha fatto anche in Moto2 e questa è una cosa che se un giorno lo incontro gliela chiedo mette la moto in posti completamente diversi da tutti 21 piloti fanno la stessa cosa lui specialmente quando si sta difendendo ma anche in altre occasioni prende la moto e la mette da un'altra parte e sono scene che tu le vedi e sai già come va a finire anzi pensi di sapere come va a finire perché di mezzo c'è la fisica e quindi non si scappa e quindi magari per fare un sorpasso in staccata lo vedi entrare troppo forte o ad un angolo che poi in teoria lo costringerà ad allargare in uscita oppure pensi che si pianterà in uscita e lo incroceranno oppure lo vedi imboccare una curva due metri e mezzo più stretto degli altri 21 piloti in pista e dici ma questo dove ha e lui invece puntualmente esce lo stesso sono tre anni che fa così con tutte le moto questo significa che ha qualcosa di diverso nel sangue nelle dita nella ciccia e nel cervello che gli fa fare questa roba altrimenti lo farebbero anche tutti gli altri visto che sono manovre estremamente efficaci quando le fa e non è uno scherzo quando dico che sta suonando la sveglia a tutti quanti compagni di marca o no perché ovviamente ci sono dei limiti oltre i quali uno va per terra oltre i quali uno finisce la gomma oltre i quali l'azzardo di fare un sorpasso smette di essere un guadagno e quindi è meglio non farlo eccetera però c'è modo e modo di arrivarci a quei limiti e io mi sono fatto questa idea facciamo finta che il limite sia un numero 10 dopo un anno o due che tu pilota spingi spingi e rispingi e il limite è sempre a 10 lo senti che è a 10 arrivi a 9.9 svariate volte e senti che il limite è lì dopo che lo fai e lo rifai nel tempo forse ti abitui al fatto che il limite sia lì a 10 e per essere efficace e per convenienza smetti di testarlo quel limite a un certo punto non c'è più bisogno di rischiare andando a 9.9 per sapere che il limite è 10 è sempre stato lì sarà lì anche perché nella stragrande maggioranza dei casi non serve magari prendersi il rischio di andare a 9.9 puoi restare a 8 e mezzo o 9 e la posizione non cambia o magari il tempo sul giro non cambia e magari quel sorpasso puoi anche non farlo tanto se no la gomma tanto se no questo tanto se no l'altro tutte abitudini e preconcetti che poi un giorno quando arriva un ragazzino con montagne di talento che il limite non ha idea di dove sia e che neanche gliene frega niente perché tanto lo sente quando arriva e ci sta dentro e non ha dogme in testa nel giro di tre gare prende e smonta tutto e viene fuori che il limite non era più 10 come 10 mesi fa era 11 ma nessuno se n'era accorto e diventa una reazione a catena più Pedro andrà forte più gli altri dovranno cercare di andare più forte li costringerà a giocare al suo gioco che gli piaccia o no va detto che non tutti i meriti possono essere attribuiti a Pedro ovviamente perché se abbiamo visto una gara bella come quella di Austin dobbiamo purtroppo ringraziare a rovescio il gommista anche o chi fa le regole ringraziamento a rovescio perché è come se uno fino a ieri ti prendeva bastonate tre volte al giorno e oggi lo ringrazi perché ti ha dato solo due sberle però resta il fatto che l'allentamento sul controllo e sulle penalità riguardo le pressioni delle gomme ha dato più margine e libertà a piloti e squadre di lavorare ed esprimersi e il tutto si è tradotto in una gara bellissima come quella di Austin però diciamo la bassa voce perché alla fine ci piace sognare e quindi chi se ne frega delle gomme quando c'è Pedro torna e l'ora te go grazie a tutti